Puntualmente come l'alternarsi delle stagioni, ancora una volta le iscrizioni della Maratona della Valle in Trasca, che quest'anno celeberà la sua 43esima edizione, si apriranno il primo di aprile. La spettacolare Corsa in Montagna a Coppie, una delle poche in Italia, organizzata come sempre dal CAI Verbano, si disputerà sul percorso lanciato nel 2014 in occasione della 40esima edizione con partenza ed arrivo nel Salotto Buono di Verbagna intra Piazza Aranzoni, un tracciato di 35,030 chilometri e un dislivello totale positivo e negativo di 1.634 metri. La quota iniziale di iscrizione fino al 30 di aprile sarà di 65 euro a coppia per poi salire a 75 fino al 31 maggio e a 85 fino alla chiusura delle iscrizioni alle ore 7 e 20 del giorno di gara il 5 di giugno. Il primo aprile si apriranno anche le iscrizioni alla Maratonina in programma sulla distanza di 16,9 chilometri. La quota di iscrizione iniziale, valida fino al 30 di aprile, è fissata in 20 euro, poi passerà a 25 euro e a 30 euro fino al giorno della gara. L'impegno del CAI Verbano è quello di ripetere il grande successo dello scorso anno quando furono ben 323 le coppie iscritte alla Maratona a record assoluto e 150 altro record di iscritti alla Maratonina. Come tradizione inoltre in occasione della Maratona ci saranno una serie di eventi tutti dedicati alla montagna sulle rive del Lago Maggiore a partire dalla quinta festa della montagna al Lago che vedrà venerdì 2 la cerimonia di consegna del premio alpinistico Pica da Legne sabato 3 la sempre più sentita sgambettata dedicata ai più piccini e altri eventi collaterali. Con il clu ovviamente domenica 4 con la Maratona della Valle in Trasca e la undicesima Maratonina, il tutto condito da musica, spettacolo e buona cucina.